Eccoci qua ragazzuoli tornati su Dark Souls 2, ripartiamo dove eravamo arrivati. Allora intanto dobbiamo parlare con questa qua, che dovrebbe darci indicazioni in teoria. Niente, ci ha semplicemente detto che dobbiamo continuare a cercare altri boss, perché... Dobbiamo arrivare al Re, che non so dove sarà, però dobbiamo cercare. Ma intanto comunque volevo andare a vedere anche su sta villa qua, dato che l'ultima volta il viandante, mi pare, una persona che era dentro una grotta ci ha dato la chiave. Andiamo a vedere chi c'è dentro. Qua non c'è niente. E qua? Barili Altri barili Un oggetto nascosto Pietra di Farrus ancora E poi? E' impossibile che ci sia solo qui. Ah, ecco qua. Qui cosa c'è? Qua scale per andare sopra. Un baule, un baule, un baule, frammento di titanite e torcia. Qua fuori c'è il panorama. Qua fuori c'è il panorama. E giù sarà di qua. Qui c'è una mappa, tipo. Sì, cos'è? No, non è una mappa. Oh, è una mappa. È una mappa. Forse noi siamo qui. Può essere. Ok, continuiamo alla discesa. Oh, c'è già un mostricciato. Che è dura da buttare giù. E muori. Raccoglio oggetto. Effigia umana, buona. Qua si potrebbe accendere con la torcia. Che in questo momento non abbiamo. Cioè non l'abbiamo acceso. Frammento di fieschetta Estus. Questa qua è buona. Qua un altro... Ricettacolo per anime. Che cos'è? Qua non c'è più nient'altro. Niente. Porte segrete, no? Niente. Niente. Mi pare strano. E qua? Niente. Vabbè. Torniamo su. Andiamo a consegnare il frammento di fieschetta Estus. Così c'è la potenzia. Fuori. Ma qua c'era ancora roba. Noi siamo mai andati qua? Così. Ah sì. Siamo arrivati da sotto. Vediamo se attaccandolo con le frecce. Oh, ce n'è un altro! Oh, vi... No! Che nabbo. Che nabbo. No, devo riuscire a uccidere. Il problema è che ce ne sono due. E... Allora... 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 Devo che parte... No, li si è buttato per... Non, li si è buttato. Allora... 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 mamma mia no no due non due scappa 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 ok via via e muori che mi ha droppato niente e adesso mi sembro un po' diverso scusa un attimo eh scusa sono una ragazza scusa dai aspetta voglio un attimo ma io voglio vabbè strana sta cosa no cos'è eh prima avevi i capelli lunghi mi pare vabbè abbiamo recuperato le anime qua non c'è nient'altro vero adesso qua devo cercare di non farmi prendere ma no però c'è da dove spuntano questi sì 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 due anche contenti non so no uccidiamo il grello sennò dopo viene romperci le palle e ti pare in due ma sì no no posto giusto non nient'altro coltelli da lancio 11 però non credo di riuscire a fargli tanto danno non credo neanche che gli arrivino cioè non gli arrivano proprio io io ti provo dai dai però l'avevo aperta mamma mia mamma mia spada lunga a fuoco cioè 78 però non è male poi la metto al posto della città vediamo ossia come faccio eh così mi prende io voglio uccidere quella roba cioè non 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 in due che che ha in niente vabbè per questo episodio è tutto ragazzi la prossima volta mi prendo tante frecce tante frecce perché voglio uccidere quel sputafuoco sputapalle di fuoco se il video vi è piaciuto come al solito pollicione su iscrivetevi e commentate ciao ciao